La domanda numero 8 Parabonti, polizio Siente sbrighi, tu far botto Parabonti, polizio Italiano Ok Perché? Nell'Eneide C'è presente? Sì Virgilio Narra la leggendaria storia di quale eroe troiano? C'è una risposta multica No Ah no, quella è avanti un altro Nell'Eneide Virgilio Racconta la leggendaria storia di quale eroe troiano? Guardi me Nell'Eneide Nell'Eneide, che può raccontare? Virgilio, che ci può dire Nell'Eneide? Qual è questo eroe troiano? Eh, guardi me Beh Non la voglio sparare grossa, ma mi sa che succederà Sì Un attimo solo Sassi Dai Sassi Achille Allora, non era difficile questa domanda Per una banalità Essendo il titolo Eneide, chi cazzarola poteva essere? Enea Enea, sì Mi dispiace, è sbagliato Un'altra tacca d'acqua Enea, sì Allora, non era difficile per la banalità Enea, sì Enea, sì